Ben trovati dalla redazione aquilana del Tg di TV6 l'Aquila in apertura ai lavori del Consiglio regionale sul tema scottante della sanità. Evoluzione dei livelli essenziali di assistenza, maggiori investimenti nelle risorse umane, rivisitazione dei meccanismi di finanziamento per le strutture pubbliche, studio di fattibilità per due ospedali di secondo livello, investimenti nella sanità territoriale. Sono questi i contenuti del documento presentato dal centro-sinistra e votato all'interno del Consiglio straordinario sulla sanità tenutosi oggi all'Aquila, che prevede un impegno del commissario ad acta e presidente della regione Luciano D'Alfonso. Un altro documento presentato dalle opposizioni è stato invece bocciato dall'assise regionale. Le minoranze chiedevano ad Alfonso di relazionare in aula sul recepimento del decreto Lorenzin e di predisporre un piano con degli obiettivi da raggiungere nel medio periodo. Anche questa volta le opposizioni sono finite nel sacco del loro stesso gioco. La maggioranza di centro-sinistra è stata compatta nel sostenere ciò che abbiamo garantito agli abruzzesi durante la campagna elettorale, ovvero la riforma della sanità. Così ha commentato il voto in aula il consigliere del Partito Democratico Camillo D'Alessandro, di provvedimento fotocopia di quello del centro-destra parlato invece Mauro Febbo di Forza Italia, che ha attaccato l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Secondo Febbo il centro-sinistra esce in modo pessimo da un consiglio straordinario, nel corso del quale ha mostrato di non avere argomenti. All'attacco dell'assessore alla sanità anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri, che ha bollato l'intervento di Paolucci come 50 minuti di assoluto nulla. Secondo Ranieri in aula si è assistito ad un discorso sterile, tanto da essere irrispettoso verso tutti quei cittadini che dal governo regionale attendono risposte per capire dove, come e quando curarsi. Rimaniamo a Palazzo dell'emiciclo, dove in commissione è stato molto acceso il dibattito sul futuro dell'istituzione sinfonica abruzzese, che rischia la chiusura per la carenza di risorse. Sentiamo allora tutti i particolari nel prossimo servizio. Il CDA non lo prende. Lì c'è scritto che lo prendete, adesso evidentemente non sapete neanche scrivere un atto di trasparenza. Continua ad essere offensivo, come non sappiamo scrivere, secondo me non sappiamo scrivere. Veda il sito nostro, il CDA non prende un centesimo. L'acceso al terco tra il capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Ranieri e il presidente dell'istituzione sinfonica abruzzese Antonio Centi è la classica rappresentazione della tensione che si vive in queste ore in commissione regionale intorno alla partita del finanziamento delle istituzioni culturali abruzzesi. Pomo dalle scordi è ancora una volta proprio l'istituzione sinfonica, con i suoi dipendenti senza stipendio da sei mesi. Il disegno di legge che intende assegnarli in emergenza 800.000 euro a firma del consigliere PD Pierpaolo Pitrucci ha subito il fuoco di fila da parte del Movimento 5 Stelle che ieri sera ha presentato 700 emendamenti ostruzionistici. Non si possono dare soldi solo a Lisa, ribadisce al nostro microfono Ranieri. Bisogna anche che si emani un bando con 1,5 milioni di euro disponibili per la cultura a cui possano partecipare tutte le altre istituzioni culturali abruzzesi, tranne Lisa che ha già avuto. La proposta è di mettere tutte le associazioni culturali sullo stesso piano e di avere un plafond che permetta di fare un bando. Bando che ci viene negato perché ci sono alcune associazioni culturali che fanno la parte del leone. O meglio tentano di farla. Ecco, facciamo, diamo un po' di cifre perché poi è interessante ragionare sui numeri. Sì, ci viene proposto in commissione di dare 800.000 euro a Lisa, spacchettati in 400.000 per il 2015 e 400.000 per il 2016 però tutti quanti di competenza del 2014. Questo significa che oltre a questi Lisa pretenderà anche 800.000 euro per il 2015 e 800.000 euro per il 2016 senza mettersi in corretta concorrenza con le altre associazioni culturali. Abbiamo fatto una legge, la 46, che prevede proprio questo. L'Europa ci chiede che tutti quanti vengano messi nella stessa condizione e siano premiati per quello che fanno. L'opposizione di centrodestra, l'accordo invece, sembra averlo trovato con un sub-emendamento con cui si assegnano finanziamenti ad hoc non solo all'ISA ma ad altre istituzioni e manifestazioni. Questo è l'elenco della spesa. 150.000 euro al Teatro Marrucino, 100.000 al Liceo Musicale Braga, 80.000 euro al Teatro De Marsi, 80.000 all'International Arts Festival di Pescara, 50.000 euro ciascuno a premio Michetti al premio Falaiano, 30.000 euro ciascuno al Teatro Feneroli e alla Fondazione Brigata Maiella, infine 150.000 euro per le manifestazioni storiche come la giostra cavalleresca e il Mastro Giurato. Un atto di giustizia, definisce questo emendamento il centrodestra, un mercato delle bacche replica musoduro in Movimento 5 Stelle, via d'uscita da una partita che si trascina da mesi senza soluzioni invece per molti esponenti della maggioranza. Stiamo distinguendo le due fasi, una emergenziale e quella poi che d'accordo anche in parte con i ghirlini deve vedere una rimodulazione dei fondi della cultura con il fondo unico con il prossimo anno, ma certo è che ci sono delle istanze, delle emergenze che vanno affrontate nell'immediato e che non possono essere affrontate con un metodo diverso da quello che stiamo invece portando avanti quest'oggi. Terremoto e tasse, la partita è ancora tutta da giocare. Convocato dal vicepresidente della regione Abruzzo un tavolo tecnico per individuare una soluzione al nodo cruciale della restituzione delle tasse sospese alle imprese dopo il sisma del 6 aprile. La partita è molto complessa, ha spiegato Giovanni Lolli nel servizio di Giorgio Alessandri. E' ancora tutta in salita la strada per individuare una soluzione per le imprese chiamate dall'Europa a restituire le tasse sospese dopo il sisma. Una certezza o quasi emersa al termine dell'incontro, convocato con tecnici e parti interessate dal vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli. La partita è in corso ed è complessa, ha spiegato Lolli, riferendosi alla questione se considerare le infranchigia, gli aiuti fino a 500.000 euro. E' bene ribadire, ha aggiunto Lolli nel corso della riunione, che non esiste alcun documento ufficiale che fissa il de minimis a 500.000 euro. Posso dire che siamo sulla buona strada, ma è anche necessario aggiungere che l'Unione Europea, come tutte le istituzioni, parla con gli atti e allo Stato manca un documento ufficiale che indichi come riferimento quella cifra. Sul nodo restituzione aiuti di Stato, che in caso di franchigia 500.000 euro interesserebbe 26 aziende del criterio sismico, il vicepresidente ha detto che si sta lavorando su tre tavoli, un'azione diretta dei parlamentari europei, l'attività della Camera di Commercio e un tavolo tecnico presso il Ministero a Roma, al quale la regione partecipa. In questo senso, infine, ha concluso Lolli, la tendenza raccolta in sede di Unione Europea è quella di considerare nel computo dei danni che dovranno presentare le aziende, anche quelle derivanti da danno economico, mancato guadagno e spese maggiorate a caso del sisma. E veniamo alla cronaca, sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, circa mille confezioni di profumi falsi d'autore. Il tutto è avvenuto nei negozi della Valle Peligna, in particolare a Sulmona, dove i finanzieri hanno sequestrato una quantità ingente di profumi falsi, taroccati. Allora sentiamo il servizio. Sono mille profumi falsi d'autore, sequestrati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila, nei negozi cinesi della Valle Peligna. La contraffazione di capi di abbigliamento è un fenomeno piuttosto noto al pubblico dei consumatori, meno conosciuta è invece la pratica di riprodurre e di mettere sul mercato profumi contraffatti. È quanto hanno scoperto i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, nel corso di una serie di servizi mirati a colpire l'illecito commercio di prodotti falsi. A seguito di un'attenta attività info-investigativa condotta nell'ambito dei servizi a tutela dell'economia, sono state eseguite una serie di perquisizioni che si sono concluse con il sequestro di mille profumi falsi d'autore per un valore di circa 5.000 euro e la denuncia di due responsabili. I profumi sono delle marche più richieste sul mercato, da Acqua di Gio, di Armani a Paco Rabanne, a Chanel numero 5, ma anche Biagiotti, Versace, Obsession di Calvin Klein e tanti altri ancora. Le perquisizioni e di sequestri sono avvenuti in diversi negozi del comune di Sulmona, tutti gestiti da soggetti di nazionalità cinese. Benché sia chiaro che non sono originali, recenti sentenze della Cassazione equiparano questi prodotti a quelli taroccati. La contraffazione del commercio di prodotti insicuri danneggiano il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, mettendo tra l'altro in pericolo la salute dei consumatori. La vicenda è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Sulmona. Essendo state ravvisate, l'ipotesi di reato, di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. E apriamo la pagina sportiva dedicata alla palla ovale. L'Aquila sconfitta a Via Dania nella partita di esordio. L'Aquila Rugby Club regista quindi la prima sconfitta di stagione sul campo del Forte Via Dania. Tutti particolari nel servizio di Fabio Zenodocchio. L'Aquila Rugby scende in campo a Via Dania per la prima di campionato. Allo Zaffanella i ragazzi di Mercier mettono subito in campo grinta e voglia di giocare. L'estremo nero-verde Bonifazi tuttavia non capitalizza e due calci di punizione ottenuti nei primi minuti di gioco. E Ian McKeele invece a centrare i pali portando in avanti i padroni di casa al nono minuto e allungando al ventesimo. Passano pochi minuti e i nero-verdi riescono a marcare. Alessio Mattoccia schiaccia in meta e Bonifazi stavolta non sbaglia. L'Aquila si porta in vantaggio per 6 a 7. Ci pensa McKeele e dalla piazzola a riportare il Via Dania in avanti. Mentre sul finire della prima frazione di gioco è Melegare e marcare meta per i gialloneri. 16 a 7 il parziale. Nella ripresa l'Aquila Rugby scompare e il Via Dania dilaga. La seconda meta dei Lombardi favoriti dal giallo rimediato dal nero-verde Boccardo arriva al 48esimo. Mischia 5 metri in attacco per il Via Dania. La terza centoro Monfrino si stacca e segna. La terza meta del Via Dania è ancora una volta frutto del lavoro degli avanti. Allenati dall'ex nero-verde Luiz Sgaboa e Emanuini a segnare al 54esimo. La meta del bonus arriva al 64esimo con Lombardo nel finale. I gialloneri dilagano. Risultato Via Dania 47, l'Aquila 7. E in tema di palla ovale, quindi di rugby, mercoledì la prima di palla ovale alle ore 20.30 su TV6, l'unica trasmissione d'Abruzzo che parlerà non solo dell'Aquila Rugby ma anche di tutte le realtà regbistiche del comprensorio. Per questa prima puntata condotta da Fabio Zenodocchio avremo in studio il presidente dell'Aquila Rugby Club Mario Zaffiri e poi il presidente della squadra femminile delle belve nero-verdi Antonio Di Giandomenico. Dunque non perdete il primo appuntamento con la trasmissione palla ovale in onda mercoledì sera alle ore 20.30. E continuiamo a parlare di rugby con gusto. L'Aquila Rugby gioca questa volta tra i fornelli, infatti un'iniziativa promossa anche per festeggiare gli 80 anni del rugby in Abruzzo. Per l'occasione la chef Nadia Moscardi e il maestro pasticcere Sandro Ferretti hanno reinterpretato il menù della tradizione del terzo tempo regbistico. Allora vediamo come è andata nel prossimo servizio. Dal campo alla cucina, maneggiando verdure al posto della palla ovale, montando creme invece che tuffarsi in mischia, è quanto accaduto all'apertura della settimana nero-verde organizzata dall'Aquila Rugby Club in collaborazione con Gusto in occasione degli 80 anni della nascita del rugby in Abruzzo. L'evento ha segnato il fischio d'inizio della settimana che terminerà venerdì 16 ottobre e che vedrà tutte le sere dalle 19.30 gli atleti dell'Aquila Rugby vestire inusualmente giacche da chef. Per l'occasione la chef Nadia Moscardi e il maestro pasticcere Sandro Ferretti hanno rispettivamente reinterpretato il menù della tradizione del terzo tempo regbistico, ideato un dessè dedicato. Il pubblico, molto divertito dalla performance dei giovani regbisti, ne ha apprezzato l'ironia e la capacità di mettersi in gioco. È stata una bellissima serata, hanno evidenziato gli atleti nero-verdi, Vittorio Flammini e Niccolò Speranza. Speriamo di aver avvicinato il pubblico al mondo del rugby con questo terzo tempo particolare e divertente. Lavoreremo a turno dietro il bancone per cucinare un entrè e un dolce alla fine. Ho fatto una settimana nero-verde in cui ci divertiremo noi a cucinare per passare anche un pochino di tempo insieme ai tifosi che hanno voglia di venire qui e gustare quello che noi prepariamo. E per concludere, sabato 17 ottobre, presso l'auditorium della Scuola Superiori Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, l'Associazione Culturale Teatro Immagine e il gruppo Sale Chiodato, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, organizzano il primo Memorial Massimo Gallucci in ricordo dello stimato ed amato professionista della città dell'Aquila, prematuramente scomparso nel mese di maggio di quest'anno. Il professor Massimo Gallucci ha lasciato un vuoto incolmabile per straordinare qualità e una figura indimenticabile. Il programma prevede una serie di iniziative a partire dalle ore 15. Bene, con questa notizia termina il TG TV6 L'Aquila. Io vi ringrazio per la consueta attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie a tutti!